Far libri, stamparli, leggerli, scriverli, raccoglierli, venderli, recensirli. Nella mia vita mi sembra di non aver fatto altro, come se un'ossessiva passione mi avesse travolto appena ragazzo. Eppure da sempre mi è sembrato non privo di significato farli qua, dove ero cresciuto, magari a Venezia. Quando cominciai lo sapevo e non lo sapevo che la Serenissima era stata la patria del libro. Per questo continuo a fare i libri a Venezia. Con queste parole Cesare De Micheli si riassumeva un amore, o meglio una passione, come l'aveva definita lui per i libri, che aveva riversato nel suo lavoro collaborando subito dopo la laurea alla fondazione della casa editrice Marsiglio, diventandone nel 1969 presidente. Nel 1965 come regalo di laurea ebbi una quota per Marsiglio. A mio padre che tutti volevano l'automobile, su queste robe qui, o per il motorino almeno, insomma, delle cose. E dice no, perché c'era un aumento di capitale Marsiglio, compriamo l'1%, che sono due. Ricordo cos'era. Cesare De Micheli, fratello dell'ex ministro socialista Gianni, si è spento nella notte mentre si trovava in vacanza a Cortina. Il 19 agosto avrebbe compiuto 75 anni. Decano degli editori italiani, De Micheli si aveva insegnato all'Università di Padova, per intraprendere poi nel 1980 la carriera politica, diventando consigliere comunale e in seguito assessore del Comune di Venezia. Ricopre l'incarico di consigliere della Fondazione Teatro La Fenice e di vicepresidente della Biennale di Venezia. L'anno scorso viene nominato cavaliere del lavoro dal capo dello Stato Mattarella. Ma De Micheli, con il suo lavoro e la sua dedizione, farà della Marsiglio una delle case editrici più importanti, che in 50 anni pubblica oltre 6.500 titoli, lanciando scrittori come Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro, Chiara Gamberale. Inaugura inoltre la moda del giallo scandinavo con la saga Millennium di Stig Larsson. Un amore per i libri che non era relegato esclusivamente al suo lavoro, ma che faceva parte della sua quotidianità, basti dire che possedeva una biblioteca di oltre 100.000 volumi. Con lui se ne va un pezzo di storia della cultura italiana.